Attività anticrimine della Polizia di Gela con tre arresti e tre denunce. Le manette sono scattate per Giuseppe Morello, 22 anni. Il ragazzo si trovava a bordo di un'auto quando è stato bloccato dagli agenti della Reparto Prevenzione e Crimine di Palermo sul lungomare Federico II di Svevia. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di una tracolla collocata sul sedile posteriore della vettura, al cui interno c'erano 10 dosi di marijuana, probabilmente destinata allo spaccio in città. Il pubblico ministero, Lara Secchaccini, ha disposto per Morello gli arresti domiciliari. In macchina con Morello c'era anche un 25enne che è stato denunciato. Sempre la polizia ha bloccato il 22enne Samuele Palmeri. Il giovane stava tentando di rubare una motoape all'interno del parcheggio dell'ospedale Vittorio Emanuele. È stato uno dei vigilantes in servizio al nosocomio ad accorgersi di quanto stava accadendo ed allertare gli agenti delle volanti. Nel tentativo di dileguarsi, Palmeri ha più volte colpito la guardia giurata, provocandogli delle lesioni guaribili in 15 giorni. Palmeri adesso si trova ai domiciliari. Due presunti complici, invece, sono stati denunciati a piede libero. Nel corso dell'attività, la polizia ha arrestato Mario Luca Anzaldi, 40 anni, deve scontare in carcere due anni e dieci mesi per furto aggravato e ricettazione. Tre mesi e venti giorni, invece, li deve scontare il giulese di 45 anni arrestato dai carabinieri. Si tratta di Marcello Orazio Sultano. Secondo l'accusa, tra il 2001 ed il 2004, in concorso con altri affiliati, avrebbe storto denaro in più occasioni per favorire Cosa Nostra. Sultano, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Contrada Balate a Gela. Sultano, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Cosa Nostra.